L'amministrazione comunale di Taranto ha interdetto i giochi e le panchine in piazza Medaglie d'Oro, piazza Lucania, piazza Sicilia e piazza Messapia. Una decisione sofferta ed inevitabile per evitare assembramenti. Negli ultimi giorni infatti, fa sapere l'assessore comunale Vigiano, è stato notato scarso senso di responsabilità da parte di alcuni concittadini che con sprezzo del pericolo e con le scuse più varie vanno in giro per la città, ben sapendo che così rischiano il contagio loro stessi e mettono a rischio gli altri. Tutto questo ha portato a misure sempre più stringenti. Siamo stati costretti, ha detto Francesca Vigiano, a interdire panchine ed aree giochi che rimangono come ovvio aperte per il transito dei pedoni. Con questo atteggiamento chi non rispetta le regole rischia di contagiarsi oppure contagiare chi gli sta intorno con un virus ignoto e aggressivo che può uccidere.